Buonasera, io che è una ragazza che è stata seguita, è stata rinchiusa da ieri sera e l'ha anche legata, mi hanno anche insegnato nei polsi. Ma dov'è questa strada? Si riuscìva a scappare. Dov'è questa strada? Noi, siamo qua sulla strada. Ok, mandiamo subito una macchina, aspettate lì, ok? Grazie.